E al nastro di partenza con l'imminente pubblicazione del Bando, l'edizione 2024 del premio Lector in Terra Letti, Quintino Festival dei Lettori, alle falde della Meiella nel cuore del bacino minerario, promosso dall'Officina del Deputato del PD Luciano D'Alfonso, già Presidente della Regione, dall'Associazione U, dalla Fondazione Europa Prossima e dall'Associazione Pietrara Conviviale. Dopo il successo dell'edizione Zero che si è svolta nello scorso mese di settembre, il premio rinnova la finalità di esaltare il valore della lettura come elemento fondamentale della formazione della persona, ma anche per ricordare la figura di Quintino Antonio D'Alfonso, papà del deputato che è scomparso recentemente all'età di 88 anni. I docenti Marco Presutti e Silvia Di Donato. È la prima vera edizione dopo il successo dell'edizione Zero con cui abbiamo voluto iniziare, quindi diciamo entro il mese di gennaio sarà pubblicato il Bando, ma ci sono già le notizie che sono state rivelate, appunto dei libri che saranno scelti, delle categorie. Quest'anno abbiamo cercato di coinvolgere tutte le età e dare tutte le possibilità di partecipare, ma soprattutto accanto alla centralità della lettura e del lettore, che è l'originalità di questo premio, si è pensato di fare proprio due giorni di grande rilevanza culturale, aprendoci anche a concerti e anche all'intervento di autori che possano tenere conferenze e incontri con i lettori. Quindi il premio assume una dimensione sempre più ampia, sempre più poliedrica, che nel dare il protagonismo al lettore, però vuole coinvolgere le varie dimensioni di quella meraviglia che è la cultura. Quando e dove ci sarà il premio? Il premio si svolgerà nelle piazze e nei larghi di Letto Manopello il 7 e l'8 settembre. Si tratta di una rassegna che intende mettere al centro il lettore e la lettura, intendendo così dare un contributo di qualità alla costruzione della cittadinanza attiva, perché noi siamo anche le storie che incontriamo, le storie che leggiamo, le storie con cui ci confrontiamo e le parole che sono la prerogativa dell'essere umano sono uno strumento di pace e di costruzione solidale e di condivisione. Ci sarà un garante d'eccezione che per ora non sveliamo e siamo ai nostri di partenza.